Stisiak, Bekis va dall'altra parte per l'Embraga che non può far altro che appoggiare, pallonetto mirato di Lanzovic, ma che difesa Bekis! Koscielieva che poi attacca col mancino in parallela, Wakalor il guizzo difensivo, la botta quasi con piedi a terra di Sorokaite, ancora Koscielieva, ancora Sorokaite, pallone che rimbalza, Panettoni ci mette una pezza di là, pallonetto spinto Wakalor. Non può attaccare Perugia, ci prova via col pallonetto, si tuffa si irressi. Ricezione di Lanzovic fuori dai tre metri come l'è capitato raramente stasera, Orro non passa, Stisiak non riesce a ricostruire Monza ma lo ha da tutto braccio, il muro di Stisiak a toccare, chiude la difesa Lanzovic, poi il tocco morbido di Stisiak, Bekis va dall'altra parte per l'Embraga che non può far altro che appoggiare, pallonetto mirato di Lanzovic, ma che difesa Bekis! Da seconda linea Scherban, Maluala ancora a chiudere il punto, uno scambio prolungato e spettacolare, ancora una volta che attacco Lanzovic, ma che difesa Bekis questa difesa! Credo che sia uno dei primissimi scambi prolungati che vengono conquistati da Casal Maggiore, che ha lavorato meglio in questo caso, poi brava Maluala! Céline Van Gestel Coscelieva che poi attacca col mancino in parallela, Wakalor il guizzo difensivo, la botta quasi con piedi a terra di Sorokaita, ancora Coscelieva, ancora Sorokaita, pallone che rimbalza, Panettoni ci mette una pezza, di là in pallonetto spinto Wakalor, Il bagger dice, Ketola, botta, smorzato dal muro, Charlie Cambi, rigioco ancora con Wakalor, profonda in sei, tenuta da Newcom, si lotta sotto rete! Sorride il bisonte, scambio lungo il primo della partita, vinto da Firenze! Sulla battuta proprio di Diop, Castiglio, Malinov si affida a Lipman, la difesa tentata e riuscita a Velkova che la rigioca, free ball, Malinov, Pietrini, ancora Velkova! Il bagger rovesciato di guerra, non può attaccare Diop, altro bagger, free ball, Malinov, Lipman, la pipe, difesa da Bongers, poi Wakalor, ancora non può attaccare Perugia, ci prova via col pallonetto, si tuffa, si irressi, Pietrini la rigioca, Malinov ancora per Pietrini, la chiude! 25-21, finisce il primo set con l'azione probabilmente più bella della partita, almeno fino a questo momento, eccolo qua, Elena Pietrini! Proprio per cercare di mettere fuori tempo il muro di Roma, probabilmente ce n'è riuscito, ma ha messo fuori tempo anche Bosetti, eccezione buona di Daldero, poi va ad attaccare Caracourt, il muro che funziona ma deve ritirare su quel pallone Roma, ce la fa Krimitz, nella parallela, ci arriva Fersino, Enco che sceglie ancora Caracourt, il muro, il Monster Block di Roma, Veronica Turkova on fire! Si riparte, riparte la partita con Stefanovic, che batte flottante, Loda riceve e poi attacca, palla che passa in mezzo al muro avversario, ma c'è la difesa di Bosetti, controattacco affidata a Mingardi, palla che resta ancora su, Lanier da seconda linea, difende Mingardi, Polter in Bagger, allarga in zona 4, la piazzata di Gray, trova pronta Loda, la quick giocata da Schultzel, la palla che non va giù neanche stavolta, alla fine money out per Camilla Mingardi, il punto numero 10 per la Unetwork Bustasizio. Con Egliano, con il primo punto in questo set di Paolo Egonu, che adesso va in battuta, ricezione di Moro, poi il gran parallela in Izetic, difesa da Egonu, palalta di Wolos per Omoroi dall'altra parte del mondo, piani in difesa, Moro per Rivero dalla seconda linea, la difesa di De Gennaro, Wolos al centro per De Cruyff, Morata, Plummer però la va a prendere, Omoroi può solo appoggiarla, ci sarà una free ball per Trento, Berti, Raschi, Mizzetic, a tutto braccio, Yamila Mizzetic, va a Trento questo scambio prolungato. Meno 5 Cuneo intanto, già due palle recuperate, Bosio da seconda linea in questo caso sceglie Grobella, ma viene tenuto vivo da Stufi, l'appoggio dall'altra parte, coperto dalla stessa Belga, poi Bosio che apre dall'altra parte per Franti, tocco il muro alla copertura di Kuznetsova, Kuznetsova chiamata anche all'attacco in un pallonetto, non riusciva più sicuramente a preparare un colpo degno in quella situazione, difesa anche Villani da Gaia Giovannini, il muro di Chieri che rispedisce dall'altra parte, ancora noi mi signorini a ricostruire con Kuznetsova, assegno la Russa per il tredicesimo punto. Grazie per la visione!